E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, guardatevi tutti i video fatti, compresa la live di ieri in cui abbiamo parlato di Fiorentina, ma soprattutto quella di lunedì nella quale abbiamo veramente affrontato tutte le sfaccettature della situazione in Casa Viola. Ieri spero abbiate visto la Champions con il maestro Gerardo Seohane Castro che ha battuto l'Atletico Madrid di Simeone per 2-0, va bene delle altre partite, frega cazzi, però quest'oggi vi do due soluzioni e spero che Mister Italiano sia l'ascolto, in caso contrario inviategli il video via PEC, due soluzioni immediatamente applicabili di semplice ricezione per risolvere alcuni barra buona parte dei problemi che attanagliano la Fiorentina di questi tempi, due signori, due. Due soluzioni che oltretutto non hanno bisogno di calciomercato, non hanno bisogno neanche di allenamenti, ma sono due soluzioni che invece vanno nella direzione della semplicità, della semplificazione delle cose e che possono portare, secondo me, degli ottimi frutti. Allora, io partirei facendo un po' di ordine, perché in questi giorni dal tifo, visto anche sotto i social, le richieste che vanno per la maggiore sono quelle di un cambio modulo. Ma non è che tu cambiando l'ordine degli interpreti fai cambiare il risultato, se tu hai un problema di impostazione perché ti manca l'uomo, il tuo reira di turno, piuttosto che un regista di altra fattispecie, meno verticale, magari più orizzontale, ma se tu non ce l'hai, non è che cambiando schema lo trovi e ti salta fuori come un fungo. Cambia veramente poco. Vi faccio altresì notare che contro il Bologna il 4-2-3-1 tanto invocato, per certi versi, lo abbiamo anche visto da una certa, ma i risultati sono stati quelli che sono stati. Oltretutto, un'altra questione intelligente, come per esempio quella del dire, abbiamo un gioco che punta troppo sul possesso sterile, bisognerebbe attendere un po' le squadre avversarie per aprire spazi e magari saper colpire in contropiede, come abbiamo fatto contro la Juve, per esempio. Questo è già un discorso più intelligente, ma bisogna anche tener conto di una cosa. Noi abbiamo un mister, piaccia o non piaccia, che non è un gestore, non è un mister capito liquido, è un mister che ha una sua forte idea di calcio, una sua forte idea tattica, che ha i suoi pregi, ha i suoi difetti, ma tu nel momento in cui decidi di investire su italiano, investi, investisci sulla sua idea. E mi pare anche che con tutte le critiche del caso, che anch'io gli ho fatto in certe cose, ma dall'anno scorso non da oggi, sia un'idea che tutto sommato, quando messa in condizione di fare, quando gli dai gli uomini adatti, o meglio, quando magari non vai a scombussolare i centrocampi e a toglierli, mi sembra anche un'idea positiva. Poi che italiano abbia commesso i suoi errori, questo lo penso anch'io. Vi faccio riflettere sulla stessa situazione Torreira. Io sono assolutamente convinto che se lui avesse recepito Amrabat e Torreira come giocatori complementari e non alternativi, il peso di Torreira sul campo e sul mercato sarebbe stato totalmente diverso, e tu per esempio già dall'anno scorso saresti andato ad impostare un 4-2-3-1 de facto, e vi lascio immaginare avere oggi un centrocampo Torreira, Amrabat, Barak, che centrocampo sarebbe. Ma a parte questo, ci sono alcune situazioni che non parlano di cambio modulo, che non parlano di cambio di gioco, che non mettono in discussione una cornice che per me non sarà messa in discussione, perché italiano non è un allenatore che rimette in discussione il suo credo. L'italiano ha il suo credo, un credo che può essere modificato in modo intelligente. Come? Secondo me, la prima cosa, quindi veniamo al primo punto, e vi chiedo di focalizzarvi su questi che vi do, è il discorso degli esterni alti. Io credo che non ci sia squadra in Italia, forse in Europa, che interpreta il ruolo degli esterni in modo così esterno come noi. Cioè, la riprova è l'evoluzione o l'involuzione che sta avendo anche Kwame, per esempio. Kwame ha fatto le prime partite in modo piuttosto personalistico, mi viene da dire barra anarchico, ok? E ha inciso. A Bologna l'abbiamo visto, a parte una serpentina, era più volte vicino alla bandierina del calcio d'angolo, sulla linea di fondo. Questo è il destino a cui sembrano condannati tutti i nostri esterni. Cioè, delle intercapedini, ok? Assolutamente lontane dall'area di rigore, delle intercapedini per l'attesa del terzino che arriva, si sovrappone e crossa. Poi devono tagliare, devono creare la superiorità numerica. E mi fa specie che l'italiano abbia detto per me gli esterni come fossero attaccanti. No, se li interpreti così non sono attaccanti. Gli esterni o trequartisti che sono attaccanti sono, per esempio, i Caprari e i Barac del Verona dell'anno scorso. Esterni che stanno così tanto lontani dall'area di rigore, che hanno una tale mole di informazioni da recepire. Sono esterni che sono ricchi di informazioni, li hai riempiti di compiti, di microcompiti, di informazioni. Tutti o quasi esterni alla mera opera di realizzazione, che gli esterni vanno in campo inibiti. Invece abbiamo anche giocatori che lo spunto personale ce l'avrebbero, che l'iniziativa individuale ce l'avrebbero e che la confidenza con una certa vicinanza alla porta ce l'avrebbero. Ce l'avrebbe Nico González, ce l'avrebbe Quame, ce l'avrebbe Sottile, ce l'avrebbe probabilmente anche Icone. Allora la soluzione che io consiglio a italiano è quella di impoverirli di informazione, di farli andare in campo più liberi e di avvicinarli all'area di rigore, anche per riempirla e per lasciarli liberi di agire. Io vedo le partite, italiano si concentra molto sugli esterni alti, anche a Sottile, spesso gli urla informazioni, lo riprende. devono essere liberi, devono avere una certa quali iniziativa che possa anche avvicinarsi, che debba anche avvicinarsi alla porta. Se non noi è come giocassimo con il 4-5-1, non con il 4-3-3, con il 4-5-1. Quindi la prima cosa che io consiglio, che non richiede allenamenti, che non richiede niente, ma richiede solo una semplificazione, è quella di liberare gli esterni, liberarli da stamole di compiti, da stamole di microindicazioni vicino alla bandierina o sull'out, accentrarli, farli sfogare, lasciare loro dei personalismi, perché anche gente che se gli lasci dei personalismi, secondo me, vai a fruttare, penso a Nico e Sottile su tutti. Quindi semplificare gli esterni e avvicinarli alla porta. E questa è una cosa che non ti richiede un allenamento, ti richiede solo di lasciargli fare a volte quello che hanno in testa di fare. Poi le sovrapposizioni col terzino ci possono anche essere, bene, ma nella normale dinamica di una o due, tre volte su dieci. Non che l'azione dell'esterno sia sempre quella di andare sulla bandierina, aspettare la sovrapposizione e il terzino arriva e crossa. Perché A ti leggono, B castri l'esterno, C è una manovra leggibile fin dal principio, le squadre lo sanno già e si riposizionano. Quindi prima cosa importante, che non richiede lavoro, ma richiede banalmente una sottrazione di informazioni, una sottrazione di compiti, è quella di liberare gli esterni, lasciare loro più iniziativa personale e anche avvicinarli alla punta, alla porta e fare densità in area. Prima cosa, seconda cosa c'è da affrontare il Toro per le corna, che è il nostro centrocampo, perché piaccia o non piaccia, sei andato, come dicevamo quest'estate, a scombinare il centrocampo in un modo che per me ha portato e porta più danni che benefici. Parlo del non riscatto di Torreira e a chi non piace Torreira, perché anche qui va detto, è vero che non esiste solo Torreira al mondo, ma se tu non mi riscatti Torreira e mi prendi, che cazzo ne so, il Sergio Oliveira, il Grillish, il Brozovic, il Mark Rocca, fate voi di turno, c'è un giocatore con doti impostatori uguali o simili, il problema non si pone, il problema è che sei andato a recepire come regista uno che regista non è ed è mediano, cioè Amrabat, e a spendere i soldi che hai speso per Mandragora, ok? Bene. Questo, quindi, il centrocampo è, come era preventivabile, secondo me, il nocciolo dei nostri problemi, perché manca una fase di costruzione per vie centrali, riducendoci a fare il ferro di cavallo e vedendo Biraghi sostanzialmente nel ruolo di regista, perché oggi Biraghi è il nostro regista. Anche lì sento molti dire, ma non possiamo, non è normale che una squadra crossi e che la nostra azione sia nel dare palla a Biraghi, cross al centro, non c'è nessuno palla persa. Giustissimo, anche io credo che non sia normale che sia Biraghi il nostro rifinitore, ma il vero viaggio di scoperta è chiedersi perché le nostre azioni si dipanano tutte così, perché la nostra azione termina su Biraghi, perché? Perché per vie centrali facciamo fatica a costruire, quindi l'unico sfogo, l'unico sbocco per la squadra è quello. Come si risolve a questa situazione? Facendo di un nostro minus un nostro plus, cioè andando ad impostare un centrocampo che possa in qualche modo, contando che non ci sono molti allenamenti per provare costruzioni diverse, perché per costruire, allora o tu hai un regista, ok, che si assume il 100, il 90, l'80%, il 70% dei compiti di costruzione di una squadra, oppure se non ce l'hai, devi recepire delle vie alternative con una regia mobile, una regia coordinata tra due o più giocatori, ma queste sono cose, secondo me, che si fanno soprattutto con un allenamento e soprattutto avendo giocatori con le caratteristiche adatte per farlo. Dubito su entrambi, dubito sul tempo, perché si gioca ogni tre giorni, dubito sul fatto di avere giocatori aventi caratteristiche di regia, perché ci può essere Amrabat, ma una regia molto spartana, c'è Mandragora, ma onestamente per andare a dare il plus di regia dovresti far giocare Mandragora, sostanzialmente titolare, per fare questo discorso di costruzione, che è una cosa onestamente che non mi sento di fare, perché, non so voi, ma a me Mandragora non è che entusiasmi, ok? L'unica sarebbe quella di far giocare Amrabat e Mandragora titolari, allenandoli a fare una regia dinamica, simile per certi versi a quella che aveva Lella Sverona, proprio con Amrabat e Veloso, ma a, non so se ci sia il tempo, b, questo significa andare a mettere Mandragora a titolare sempre, onestamente non me la sento, ok? Se vuoi costruire una regia canonica, altrimenti ci possono essere altre soluzioni, la soluzione sarebbe quella di avere una squadra che gioca di contropiede, è una cosa, secondo me, un falso amico, tanto il cambio schema, come il cambio schema, perché a, c'hai un allenatore che non ha questo nel suo DNA, è come chiedere ad un chef stellato di fare il lavapiatti, ok? Per farvi un esempio, non è nelle sue corde, non lo fa, non sa neanche farlo, probabilmente non vuole comprensibilmente farlo. B, comunque, anche nelle squadre che giocano di contropiede, una certa impostazione parte, parte magari dai centrali di difesa alla Bonucci che ti fanno il lancio, parte dal centrocampo, comunque ci avresti bisogno, avresti una certa necessità di costruzione che oggi non ci viene pienamente rispecchiata da nessun giocatore, tant'è che stiamo parlando di quello. Quindi qual è la soluzione? Ve la dico io adesso, molto semplicemente. Far giocare Amrabat, Barak e Zurkoski, che dovrebbe essere il nostro centrocampo titolare, avendo anche la possibilità e la fortuna di affidarsi alle loro esperienze più recenti per costruire un centrocampo collegato. Fai giocare Amrabat come mediano, usufruendo di quel minimo di regia spartana che riesce a fare, avvalendoti di un Zurkoski, come lo si è visto a Empoli, cioè un giocatore che sa dare verticalità, che sa prendere la palla e progredire, che sa dare alla manovra e alle esigenze di centrocampo anche una certa verticalità e una certa progressione, e con Barak, che è un altro, che attraverso la tecnica, la visione e la capacità di vedere la porta, assieme a Zurkoski, possono costituire un centrocampo sicuramente più spartano, un centrocampo meno ricco in linee orizzontali, ma un centrocampo che parla di progressione, un centrocampo che parla anche di iniziativa personale, un centrocampo che può avere una maggior visione sulla porta e che può avvalersi in Zurkoski di un giocatore che ti spacca le linee, tra virgolette, che ti sa avanzare e smistare il pallone, e in Barak di un falso rifinitore che può o vedere la porta o anche fare da falso trequartista. Zurkoski è un segno del destino che sia rimasto, può essere il giocatore che ti fa svoltare questa situazione di difficoltà. perché uno che ama prendere la palla e progredire con la stessa è uno che con la sua fisicità, col suo incedere, sa attirare giocatori, sa aprire spazi. Oltretutto sono due soluzioni nelle quali il mercato ti viene in soccorso perché sono giocatori che tu non li devi allenare, semplicemente basta che gli dici di fare praticamente il 90% o l'85% di quello che già facevano nelle loro squadre. Barak come nostro Milinkovic-Savic, come nostro trequartista, Zurkoski come uomo di scompiglio, come uomo di progressione, come uomo di portare la palla verso l'area di rigore, attirando uomini, smistandole, magari andando al tiro vedendo la porta. Zurkoski è uno che ha fatto i gol che ha fatto giocando da mezz'ala nell'Empoli. Non è il primo piripicchio che passa. Questa è la miglior soluzione, secondo me. Fare di necessità virtù e fare dell'attualità, perché è un centrocampo attuale, diverso dall'anno scorso, quindi anche meno leggibile per gli avversari, è un centrocampo di stacco rispetto a quello che era stato per il gioco, abituato a fare di questa diversità un tuo punto di forza e un tuo motivo per uscire dalle pastoie. Centropuntare non solo sul recupero scontato, ma sul pieno inserimento di un giocatore come Zurkoski e fare centrocampo Amrabat, Zurkoski, Barak. Poi nelle rotazioni vuoi inserire Buonaventura ogni tanto, vuoi inserire Duncan, va bene, ci sta, un po' difficile Duncan, già di più Buonaventura, se è un po' più rapido, ma per me l'uscita dalle pastoie nostre a centrocampo deriva dall'impostazione di questo centrocampo qui. Amrabat, che fa il mediano e con una piccola dote di costruzione, Zurkoski, che fa il nostro tuttocampista, il nostro De Paul versione udinese, cioè un giocatore che sa veramente progredire palla al piede, che con la sua fisicità, con la sua corsa, sa portarsi avanti, spostare uomini, spezzare i nerzi, smistare o tirare, e imbaracchi il nostro assistente, a Zurkoski, rifinitore per le punte, e magari il giocatore che sa inserirsi o tirare anche lui da fuori aria. Questa, secondo me, è la soluzione. Fare dell'attualità, delle sue povertà, ma anche delle sue opportunità, la chiave di volta per il presente e il futuro. Perché non è più la Fiorentina 21-22, ma deve essere la Fiorentina 22-23. La Fiorentina 22-23, secondo me, può e deve passare da una situazione di Amrabat, Barak-Zurkoski. Questo deve essere, secondo me, il nostro centrocampo e valorizzeresti anche il mercato fatto. Valorizzeresti dei tuoi giocatori un tuo giovane. Non serve che stai ad allenare gente per ricostruire una regia alternativa, ma basta banalmente che gli dici di fare quello che hanno fatto fin qui, quindi non servono allenamenti. Ok? Dai entusiasmo ad un giocatore che rappresenta un nostro cespite. Metti Barak nella condizione migliore, cioè può rifinire per le punte, puntare al tiro e inserirsi. Metti Zurkoski nella sua condizione migliore, cioè quella di essere un centrocampista, una mezzala da progressione, da strappo, da rottura delle inerzie, che se c'è un'utilità che ha è quella. Sono anche tutti giocatori... Sono tutti giocatori di grande fisicità, perché Amrabat ha grande fisicità, Barak è alto 1,90, e Zurkoski è uno massiccio, è uno grosso, è uno... Sono tutti giocatori che anche in fase di recupero palla, se la perdi, possono essere utili a fare da prima barriera frangifluti, anche le mezzali. Quindi l'unica via d'uscita è questa, secondo me, sia quella degli esterni che quella dei centrocampisti, sono cose che per applicarle, ripeto, non ti serve scervellarti, non ti serve aggiungere informazioni, non ti serve perdere tempo, ma devi banalmente togliere informazioni, devi banalmente affidarti a quello che hai già, devi banalmente mettere in campo una squadra che queste inerzie già ce le avrebbe. Ok? Senza sessioni di allenamento straordinarie che non c'è il tempo, senza andare a far giocare giocatori come Duncan, come Mandragora, come Malè, come Bonaventura, che a me, io devo dirvi, Bonaventura è stato molto criticato in questo inizio di campionato, comunque Bonaventura è tra i pochi che gli ho visto mettere un po' di razionalità, un po' di raziocini, un po' di sapere cosa fare, certo, però è lento, ha i suoi ritmi che non sono veloci. Allora, come abbiamo detto quest'estate, il centrocampo titolare impostalo con Amrabat, Zurkowski e Barak, che è anche gente di difficile lettura, è gente imprevedibile, è gente da da strappo ed è gente da illuminazione. Centrocampo più diretto, più diretto, da progressione e rifinitura, non hai la regia canonica purtroppo, questo è il metodo per uscirne, centrocampo, Amrabat, Barak, Zurkowski e esterni che stiano più dentro anche all'area di rigore, perché i cross vanno benissimo, i cross non vanno male, va bene che ci sia un terzino che ti mette dentro così tanti cross, ma è ovvio che se in area c'è uno solo e c'è o Cabral che non arriva, o Jovis che non è adatto a giocare palla alta, ok, quantomeno riempimi l'area con più giocatori, quindi avvicina gli esterni. Poi c'è due mezzali come Zurkowski e Barak che si avvicinano anche loro all'area in genere, gente che si porta laddove si segna, quindi questa può essere una soluzione a 360 gradi capace anche di farti giocare più palla a terra, di riaprire le vie centrali, di riaprire le vie centrali, di riaprire i suggerimenti per vie centrali, di riaprire le catene per vie centrali, di spezzare certo possesso orizzontale, perché Zurkowski è un giocatore di verticalità e Barak anche, quindi queste le mie due soluzioni, ditemi cosa ne pensate, non iniziate a mettere cose che non c'entrano, riflettiamo su quello e anzi condividiamolo, lasciate like, ciao!